Con Vincenzo Tassoni, segretario regionale della Federazione Nazionale d'Agricoltura, parliamo del prossimo appuntamento del 3 di marzo rivolto ai consumatori. Per quanto riguarda? Non soltanto ai consumatori, ma anche agli agricoltori e alle aziende agricole. Il 3 di marzo, su mia iniziativa, in concerto con le segreterie della FNA Marche e Umbria, abbiamo indetto una giornata di formazione e di informazione che si dirà alla Villa Elena di Tortoredo Lido. L'occasione l'ho presa a seguito del fatto che dal 1 gennaio 2018 cambiano le regole per le utenze elettriche e quindi la nostra organizzazione a carattere nazionale è una delle organizzazioni accreditate per seguire, per fornire consigli a tutte le utenze che volessero riceverne. Quindi per questo motivo, sapendo che comunque dal 1 gennaio si dovrà scegliere una organizzazione di fornitura libera sul territorio nazionale, si dovrà scegliere obbligatoriamente, allora abbiamo pensato di invitare qui dalla nostra zona il Presidente nazionale della Unione per la Dipesa dei Consumatori che ci darà tutte le informazioni al riguardo. Quindi il 3 di marzo a Villa Elena di Tortoredo Lido, con inizio alle ore 10, ci sarà questo grande appuntamento. È chiaro che come segreterie regionali della Federazione Nazionale Agricoltura, dopo tutto quello che è successo in questi ultimi mesi, coglieremo l'occasione anche per informare tutte le piccole e medie imprese agricole sulle possibilità che hanno in questo momento messe in campo dalle regioni e non solo dalle regioni e in particolare per ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti a seguito del prolungato periodo di interruzione dei vari servizi.